ChilloFan, la nuova pellicola trasparente adatta a tutti i tipi di vittima. Resistente, sicura, immobilizza fino a cento corpi con un rotolo. ChilloFan, per tutti i vostri lavoretti. Che c'è che non va? Tanto per dirne una so per diventare una specie di vecchino e la cosa mi spaventa a morte. Una società minaccia di mandarci falliti e ho paura che mia sorella non sia solo una drogata ma anche una piromane. C'è così tanta tristezza in questa casa. È un'impresa funebre. Lente narcotico, tutta impermeabile, bisturi, martello, nastro insolante, coltello, macchie di sangue da trovare, da fotografare, da catalogare, da studiare, da nascondere, da prelevare, da ripulire. Miami, parche, donne, bella vita, incontri sole, ombre, feste, balli, paura, vittime, carnifici. Difficoltà con la famiglia, difficoltà con l'amore, difficoltà col sesso, difficoltà col lavoro, difficoltà a controllare gli impulsi. La scena del crimine, la legge dello Stato, le regole della vendetta, le verità nascoste, il codice di Henry, la crudeltà della vita. Dexter in onda su FX. Punti a dare un taglio alla monotonia. Dexter in onda su FX. Si chiama Dexter e ci darò, ah, ah, is that your killer? Adesso c'è lei e non è facile Trovare il tempo per le vittime Un giorno l'altro deciderà Se hanno la morte o l'amore Ho! 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 Alleluia! Chilofan, per tutti i vostri lavoretti. La maggior parte della gente fa un patto con la società, vivi una buona vita e ci prenderemo cura di te. Ma se la società commette un errore, allora qualcuno deve aggiustare le cose. È lì che entro in scena io.